E adesso andiamo sulla collina di Trento dove una quarantina di persone, in gran parte ragazzi, sono stati coinvolte nella produzione di un film intitolato I colori del silenzio. Sono tanti i colori del silenzio, tanti quanti i volti del film firmato dal regista trentino Piero Ackler e che vede protagonisti 40 giovani della circoscrizione dell'argentario. Tutto parte da una famiglia che adotta un ragazzo di colore. Da qui si intrecciano i temi del film, l'esplosione di un inaspettato razzismo, la sfida dell'integrazione tra culture diverse, l'amicizia, i rapporti tra coetanei, tra fratelli, tra genitori e figli e poi il silenzio, o meglio i silenzi, ovvero tutte quelle cose non dette, frutto dei segreti che ciascuno si porta dentro e non trova il coraggio di comunicare. Per non ferire, per la paura di dire qualcosa di sbagliato, per il timore di non essere capito e compreso. Questa storia non mi piace. Ma chi lo dici? E ancora a distanza di mesi mi chiedo con quale coraggio tu hai voluto in casa Tijan? Dai Ulisse, ne abbiamo già parlato. Sì, non sono mai stato d'accordo. Quel ragazzo è una polveriera, basta un non nulla per far scattare la scintilla. Il film I colori del silenzio, realizzato con l'associazione Tremembe e la circoscrizione Argentario, è stato presentato nell'affollata sala polivalente di Cognola. La scorsa primavera al casting lanciato dal regista Piero Achler si erano presentati in tanti. Nessuno è stato escluso. In una decina di giorni, tra agosto e settembre in 40, si sono cimentati per la prima volta davanti alla telecamera, imparando battute ma anche impegno e precisione. Tijan non è il tuo vero nome, tu ti chiami Coroma. Perché hai cambiato? Perché proprio Tijan?